L'assessore comunale di Agrigento, Nello Amel, interviene a seguito di quanto affermato e già pubblicato dalla segretaria provinciale del Partito Democratico di Agrigento, Giovanna Iacono, la quale tra l'altro ha auspicato un nuovo governo della città di Agrigento, frutto delle amministrative del 2020, a fronte dei risultati deludenti dell'attuale amministrazione. Sì, io mi sento vicino al Partito Democratico, perché ho la cultura di uomo di partito e so cosa significa affidare il governo del Paese a chi non ha questo tipo di visione unitaria di equilibrio rispetto alla gestione del potere, così come viene fatta oggi nel rapporto 5 Stelle e Lega. La lettera del segretario provinciale per me è stata assolutamente inopportuna, ha aperto un fronte di polemiche assolutamente inesistente. I comportamenti amministrativi dell'assessore Riolo sono stati coerenti con la sua formazione culturale ed ideologica. Ha sempre avuto un'attenzione particolare rispetto ai più fragili, ha avuto un'attenzione assoluta rispetto a quelle che sono le politiche dell'accoglienza ed inoltre privatamente come uomo politico ha partecipato ad iniziative importanti a Roma, nei luoghi dove si celebravano gli sbarchi per manifestare costantemente la sua presenza e il suo impegno in difesa di questi soggetti. E questo fronte è il fronte principale su cui adesso il Partito Democratico è impegnato, quello che fa la differenza tra uomini che vedono il potere solo come gestione di rapporti politici di tipo formale e uomini invece che vedono la gestione amministrativa come dedizione e come disponibilità a creare le condizioni per una società più giusta, più equilibrata, più libera, dove tutti possano in qualche modo giocare un ruolo. Il segretario provinciale del Partito Democratico, prima di attaccare l'assessore Riolo e prima di attaccare la formazione e la giunta di Lillo Fiedetto, deve comprendere che cosa c'è all'interno del Partito Democratico, quali persone nel corso degli ultimi anni sono state inglobate nel Partito Democratico senza avere alcuna coerenza con le idee del Partito Democratico, quali persone sono state accettate all'interno del Partito Democratico, hanno determinato le scelte e le linee politiche del Partito Democratico, uomini di destra e donne di destra che sono state accolte a braccia aperte solo perché c'erano ragionamenti di potere. Non è questo il Partito Democratico che io voglio avere nella mia provincia. Il Partito Democratico è un partito di sinistra aperto, un partito che collabora con tutte le forze del mondo cattolico, le forze sindacali, le forze del volontariato, un partito che crea la sintesi tra quello che sono stati i movimenti di ispirazione cattolica di sinistra ai quali io faccio riferimento e l'area della sinistra pura, quella del Partito Comunista. Non ci sono più le ideologie, forse è vero, ma ci sono sicuramente i valori e i valori non sono quelli formali delle schermaglie politiche, i valori sono quelli sostanziali del ruolo e della consistenza dell'impegno delle persone. Non accetto quello che è stato scritto dalla segretaria provinciale, voglio che faccia una ammenda e il ritorno indietro rispetto a queste dichiarazioni. Il Partito Democratico deve essere un partito aperto e non può andare a fare strumentalizzazioni solo in funzione di quelle che sono le prospettive delle prossime elezioni amministrative. Chissà quali disegni ci sono di ritorno di una classe politica all'interno di meccanismi di gestione che non sono assolutamente condivisibili.